buongiorno a tutti ragazzi dal vostro fgm ebbene sì la fine di altre due partite dei quarti di finale di ritorno di champions league una è stata tra liverpool e benfica l'altra è stata trego madrid e manchester city alla fine passa liverpool manchester city manchester city passa dopo un quarto finale di ritorno davvero pazzesco pieno di avvenimenti pieno soprattutto di risse all'interno sia all'interno del campo che fuori dal campo una partita mente combattuta partita dove e manchester city e cercava di perdere tempo di portare a casa tutto questo pareggio per portare qualificazione e andare in semifinale mentre liverpool fa una grande partita un 3 a 3 dove il benfica mette soprattutto tutto il suo impegno per provare l'impresa ma è davvero difficile liverpool si porta sul 3 a 1 poi il benfica rianguanta il risultato ma non c'è stato nulla da fare quindi liverpool manchester city in semifinale c'è stato un errore che abbiamo fatto tutto nel precedente video che è quello che le semifinali sono state decise ieri sera una è manchester city real madrid l'altra è liverpool via real quindi non sarà una semifinale spagnola semifinale inglese ma sarà saranno due semifinali miste quindi potrà esserci una finale o inglese o tutte inglese o tutta spagnola o può essere anche mista fate sapete secondo me cosa ne pensate soprattutto di queste due partite ho visto lì appuramente grande un grande impegno grande qualità cambi fatti alla perfezione un benfica che esce a testa alta dall'altra parte vedo una partita che appare mio una partita veramente ricca di avvenimenti che non si dovrebbero fare all'interno di un campo di calcio una partita piena di falli pieni di ammunizioni e soprattutto l'espulsione di felipe rissa e nervosismo in campo partita inguardabile manchester city che incominciato ha cominciato a perdere tempo tutto sul campo per portare a casa questa qualificazione non c'è niente da dire su quella partita non mi è piaciuto tutto atteggiamento ai giocatori mentre all'altra parte il liverpool ha giocato una fantastica partita ricca di gol di sorprese di avvenimenti molto importanti di azioni molto importanti che fanno veramente pensare che la finale alla fine sarà liverpool e la madrid a parere mio fate sapere ai nostri commenti quale secondo voi sarà la finale di questa champions league e iscrivetevi al canale lasciate un like tenete la campanita e se aggiungerete i miei contenuti bella ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao